Ciao e benvenuta in Cosmic Guide, la mia rubrica astrologica per risvegliare la tua divina essenza come guida per te stessa e anche per gli altri. Io sono Jessica Pellegrino, mi definisco una Divine Manifestor e ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo astrologia, manifestazione e maestria cosmica per rendere la spiritualità una pratica concreta e l'energia universale, il tuo canale di manifestazione e crescita sia personale che imprenditoriale e a partire dal 9 settembre alle 8 e 50 Mercurio entrerà nel segno della Vergine, il suo domicilio naturale, portando con sé un'energia di chiarezza mentale, precisione e comunicazione efficace. Questo transito è particolarmente potente perché Mercurio, che è governatore della Vergine, amplifica le sue qualità di analisi e di organizzazione. Ma andiamo a scoprire qual è il significato di questo Mercurio in Vergine. Intanto vediamo che Mercurio, essendo il pianeta della comunicazione, della mente e delle informazioni, entra nel segno della Vergine e si esprime al massimo della sua efficienza e questo transito sottolinea l'importanza di pensieri chiari, di dettagli accurati e una forte capacità di problem solving. È un momento perfetto per mettere in ordine la tua vita, per pianificare con attenzione e affrontare le tue responsabilità con un approccio pragmatico. Come potremmo però percepire questa energia? Potremmo notare per esempio un aumento della nostra capacità di focalizzarci sui dettagli, di risolvere dei problemi complessi e di comunicare in modo più efficace. La tua capacità analitica sarà potenziata e che ti permetterà anche di vedere le cose con maggior chiarezza e trovare così delle soluzioni pratiche. Tuttavia potresti anche sentirti più critica verso te stessa o anche verso gli altri, quindi è importante usare questa energia in modo costruttivo e sapere osservare che cosa accade dentro di noi. Andiamo a scoprire anche come vivere questa energia. Intanto possiamo approfittare di questo periodo per sistemare tutto ciò che ha bisogno di ordine, sia nella nostra mente che nel nostro ambiente fisico. Facciamo magari delle liste, pianifichiamo i nostri progetti, ottimizziamo la nostra routine e questo potrebbe essere anche un momento ideale per avere delle conversazioni importanti, chiarire dei malintesi o discutere progetti che richiedono precisione. Quindi esprimiamo i nostri pensieri in modo chiaro e diretto e vediamo anche come Mercurio, nel segno della Vergine, favorisce l'apprendimento e il perfezionamento delle abilità. Quindi se c'è qualcosa che desideri approfondire o migliorare, questo è il momento perfetto per farlo. E la Vergine è anche legata alla salute e al benessere, quindi potresti sentire il bisogno di prenderti più cura del tuo corpo, per esempio, adottando un'alimentazione più sana o migliorando anche delle abitudini quotidiane. E quindi a tutto questo aggiungiamo dei consigli cosmici per risvegliare la nostra guida interiore. Intanto possiamo tenere un diario durante questo transito per aiutarci a canalizzare l'energia di Mercurio in modo più produttivo. Possiamo scrivere pensieri, piani, idee che ci vengono in mente, ma proprio anche delle canalizzazioni che possiamo fare attraverso i nostri registri akashici, attraverso i sentieri del channeling, quindi possiamo appunto muovere un po' questo tipo di energia. Possiamo anche praticare delle meditazioni che ci aiutino a concentrare la nostra mente e a radicare i nostri pensieri, utilizzando la respirazione profonda per trovare così chiarezza. E poi possiamo usare anche dei cristalli come l'ossidiana e l'ametista per aiutarci a rimanere centrate e mantenere quella chiarezza mentale necessaria a vivere l'energia di questo transito. E concludiamo insieme a questo momento andando ad estrarre una runa e una carta. Cominciando dalla runa che ho pescato per te, questa è la runa Ansuz, che rappresenta la comunicazione, la chiarezza mentale e la saggezza, è simbolo perfetto per Mercurio in Vergine. E a questa runa aggiungiamo anche una carta, che è una carta credo bellissima e super allineata a questa energia, ovvero la carta del giudizio, che simboleggia il risveglio e la comprensione. È il momento di usare la tua capacità critica per prendere delle decisioni importanti. Come ti risuona questa energia e queste informazioni? Fammelo sapere nei commenti. E intanto ti do appuntamento al prossimo episodio e ti invito, se lo desideri, anche a connetterti alle energie universali e a risvegliare la tua guida interiore iscrivendoti al mio corso gratuito Multidimensional Guide. Trovi il link qui nella descrizione, oppure ti basta andare sul mio sito jessicapellegrino.com slash multidimensional trattino meno guide. Io ti aspetto a braccio aperte e intanto grazie per essere rimasta qui con me. Un bacio grande, ciao!